Allora la stiamo preparando, quindi qua era successo che sarà bloccato tutta la maradana. Non arrivava più l'olio, quindi è bloccata, non potevi andare a Milano con questo. No, no, ma neanche a Bologna c'era qualcosa bloccato. E poi qua c'è da fare un bel lavoro di pulizia, di detailing, che non è quello tamarro ma il bio detailing fatto bene. E c'è da fare, c'è da fare ancora parecchio. Però questa 318, ma è il suo bello, mi sento veramente nano. No, no, tira la vena giù, mi stavo facendo lo scemo. Allora, come vedete, questo è un rarissimo Calypso Rot, è un rosso metallizzato, molto bello quando è twinto. Quello, quel cielo di Lombardia così bello quando è bello. E ha delle peculiarità tutte sue. Intanto, vabbè, questa 318i ha il Calypso Rot che già di suo è un bel colore. Per di più ha il tettuccio apribile e il climatizzatore, che però non è quello della casa, come il vino della casa. Però è un period corretto, era stato montato proprio quando è arrivato in concessionario. Ed è una delle automobili che stiamo preparando per voi, quindi verrà messa in vendita. Targata Bologna, targata BOG. Oggi è il giorno delle BOG, anche se da un po' che ci stiamo lavorando. E quindi tra la Y10, che è BOG 11, e lei che è BOG 29, e la Punto 6 Speed, che è BOG 97, ci diamo dentro con le BOG. Con le Range Rover BOG. Insomma, quindi è bellissima. Più la guardo, più mi piace, perché io me la vedo già finita, naturalmente, perché, figuratevi, se non io, chi? Se non io, se non io, se non io, se non li sottoscrivi io, se non mi è medesimo mismo. Tra l'altro, i sedili sotto sono molto belli. C'è da sistemare le cuciture, c'è da fare un bel lavoretto ancora, però siamo meccanicamente molto a buon punto. Molto. Grazie.